Oggi è il giorno del mio compleanno e ho deciso di festeggiare raccontando un pochino quello che è la mia storia cinofila. A partire dal lontanissimo 1993, infatti quest'anno festeggio anche 30 anni di cinofilia. Nel 93 con il mio Terrier, il mio Leclan Terrier Rudy, entro in un centro cinofilo a Torino chiedendo informazioni sull'agility. E quello è il momento in cui io passo dall'essere un proprietario all'entrare nella cinofilia. Come allieva, interessandomi prima all'agility, e mi posso garantire che ero un pessimo conduttore, però ai tempi eravamo in sei a gareggiare negli small, quindi ho fatto anche dei podi, malgrado la mia terribile conduzione. E poi, vedendo una dimostrazione di Mondioring, comincio ad appassionarmi alla disciplina di morso, sportivo, e in particolare al Mondioring. Sicuramente la mia entrata nel mondo della cinofilia è un'entrata in un mondo in cui l'uso della coercizione era considerato normale, legittimo, giustificato dall'idea dell'avere il cane sotto controllo, avere un cane obbediente, avere un cane che faceva tutto quello che volevamo noi, quando volevamo noi, come volevamo noi. Di quel periodo il ricordo, credo più bello che ho, è quando ho adottato nel 96 Matisse, la Malinois, e ho iniziato, dopo qualche mese, ad andare ad allenarmi in Belgio. Partivo con la 1, benzina blu, e mi facevo 1100 chilometri e 15 ore di macchina con una 1. Arrivavo a Namur, mi allenavo per la settimana e la domenica gareggiavo. E siamo anche arrivati ad avere dei risultati. Io e Matisse abbiamo fatto quarto in classe 2 al campionato del mondo. Non ho mai incontrato un cane che richiedesse certi metodi. Un cane che sopportasse certi metodi, quello sì, quindi l'uso di certi strumenti, di certi metodi, era più giustificato dal fatto che il cane fosse in grado di reggere quel grado di pressione, quel grado di coercezione. So che il cane ne avesse bisogno, in un qualche modo non riesco veramente a capire il concetto di bisogno, poi sull'uso di certe metodologie. Tutto questo ha una fine. Io decido di uscire dal mondo della difesa sportiva, per vari motivi, e in un certo senso questo è stato l'inizio della mia vera vita cinofila, è stato l'inizio della mia ricerca di che cosa veramente volevo essere. Nel 96 ho aperto il mio centro cinofilo, ai tempi si chiamava L'impronta, e nel 2000 leggo in un trafiletto che c'è uno spazio disponibile per creare l'Università del Cane vicino ad Alessandria, a Fubine, presso la nuova sede del centro cinofilo, scusate, della sede dell'Inci, e vado a conoscere le persone che erano impegnate, diciamo, nella gestione del centro cinofilo dell'Inci, e mi viene data la gestione, quella che era la parte di educazione del cane, di attività sportiva, prevalentemente ai tempi io avevo iniziato a impegnarmi nell'obedience, dell'Ubines, la gente decisamente era passata in cavalleria, c'è stato forse ancora un paio di tentativi totalmente falliti. E quindi iniziamo una nuova avventura a Fubine, e decidiamo di attivare quello che ai tempi era un centro culturale, un'associazione culturale, e io ricordo le notti passate, le giornate passate a immaginare che nome ci saremmo dati. E il nome che scelgo è Gentle Team. Ai tempi, fate conto, di centri dove si faceva formazione professionale, ce n'erano probabilmente tre o quattro in tutta Italia, e di centri cinofili ce n'erano infinitamente meno, per cui avrei potuto veramente spaziare su qualunque nome. Ho scelto Gentle Team perché per me era importante, e rimane importante che il messaggio fondamentale sia la scelta di non utilizzare coercezione. Perché se avessimo, diciamo, puntato di più l'attenzione sulla parte di, non so, di etologia e comunicazione sociale o di capacità cognitive del cane o di relazione uomo-cane, niente di tutto questo ci avrebbe identificato come qualcuno che non utilizza coercezione. Si può essere cognitivisti e usare coercezione. Si può promuovere una conoscenza dell'etrologia del cane e usare coercezione. Ma se si dichiara di non usare coercezione, la coerenza poi è nel mantenere quanto promesso. E quindi la scelta cade sul Gentle Team. E nel 2000 io inizio due attività a livello di attività professionali. Una sono i corsi di formazione professionale. Mi sono ben 23 anni che organizzo corsi di formazione professionale. E l'altra è girare per tutta Italia, ma veramente dal Trentino fino alla Sicilia, per dimostrare l'uso del clicker. Il mio primo clicker, i miei primi due clicker li avevo comprati sul sito di Gary Wilkes. Nel 1996 ci avevo capito niente. Ricordo il momento in cui ho detto al mio cane seduto. Il cane si è seduto, io ho fatto click e gli ho dato la pallina e ho pensato non cambia niente. Poi ho scoperto lo shaping, ho imparato a usare il clicker. Ho dedicato due o tre anni per imparare a usarlo bene e ho cominciato a insegnarlo. E ho passato anni a girare tutta l'Italia insegnando a utilizzare il clicker nei vari centri cinofili. Diventando per un periodo la donna del clicker. Nel senso che io ero conosciuta come quella che utilizzava il clicker e insegnava a usare il clicker. E ricordo quando andavo nei centri cinofili, io speravo sempre di avere il classico maschio labrador ipermotivato dal cibo e poter dimostrare come si poteva insegnare a un cane a rimanere a terra e a voler rimanere a terra. Unicamente utilizzando il clicker e il principio del rinforzo positivo. La mia vita prende una rotta diversa. Nel 2003, quando vengo inserita nel progetto Scombatenti dell'EMPA come educatore cinofilo. Quindi inizio a occuparmi di questi cani che sono stati sequestrati a due allevatori ed entro nel mondo dei canili, entro nel mondo del recupero comportamentale. Quindi di prendere cani che hanno determinate problematiche, o almeno quella all'inizio era l'idea, e di aiutarli poi fino a renderli adottabili. Ed sono anche gli anni in cui io giro tutta l'Europa e arrivo fino in Florida alla Clicker Expo per entrare in contatto e confrontarmi con altre persone che avevano fatto la scelta di non usare coercizione. Sostanzialmente stavano cercando nuove strade per raggiungere determinati risultati nell'educazione, nella gestione del cane, nell'aiutare cani con delle difficoltà. Ma il progetto Combattenti è sicuramente l'esperienza che ha più contribuito alla mia formazione e quella che mi ha resa ciò che sono oggi. E io credo che sia stato fondamentale per me il momento in cui ho capito che noi non stavamo prendendo dei cani con delle problematiche, trasformandoli in cani adottabili, ma stavamo prendendo dei cani che erano in difficoltà e li stavamo aiutando a stare meglio. Quindi la riabilitazione non come mezzo per rendere gestibile un cane da parte di una persona, ma per aiutare il cane a stare bene con se stesso e stare bene con gli altri. E questa è stata per me la seconda rivoluzione dopo il clicker. Quindi dopo che io ho iniziato a utilizzare il clicker come strumento che sicuramente dava dei risultati estremamente efficaci nell'apprendimento del cane e il fatto di cominciare a vedere i cani nei loro bisogni, nelle loro necessità e non in quello che le persone vogliono da loro è stato un punto di svolta. E io ricordo una discussione con un allevatore di Pitbull a DBA e io non sapevo chi fosse. Questo allevatore viene in Tollara dove io ai tempi ancora operavo. Si siede davanti a me, ma io non avevo veramente idea di chi fosse, e mi dice che noi prendiamo in giro le persone perché dichiariamo che prendendo dei Pitbull che hanno una selezione come cani da combattimento li trasformiamo in cani da parchetto, cani con cui è possibile andare al parco cani e lasciarli liberi di interagire con altri cani. E io gli rispondo che no, non è quello che noi facciamo. Noi abbiamo davanti a dei cani che hanno subito dei maltrattamenti in quanto sono stati isolati, non hanno avuto possibilità di interagire in maniera positiva con persone, non hanno avuto possibilità di imparare quelle che sono le normali esperienze che permettono a un cuccio di vivere con l'uomo. I cani del progetto ex combattenti non sapevano fare le scale, a parte i cani che avevano più esperienza perché ad esempio erano stati utilizzati per dei combattimenti. Di uno io ho trovato poi delle foto di quando ancora era in mano chi fa combattimenti clandestini e quindi noi abbiamo anche le prove che quei cani avessero combattuto. E quindi sostanzialmente per me la riabilitazione era creare un percorso che permetteva a quei cani di sviluppare le competenze che un cucciolo sviluppa normalmente vivendo insieme a una famiglia e dare a quei cani quindi la capacità di relazionarsi in un mondo di persone in cui loro non erano mai stati integrati. E chiaramente tutto questo in un certo senso ha rimodellato la mia mente. Fino a quel momento io mi ero immersa in una idea biviorista dell'apprendimento come strumento di modifica comportamentale quindi un clicker, il cibo, la pallina mi permettano sostanzialmente di cambiare il comportamento del cane orientando il suo comportamento in una direzione perché io lo associo a qualcosa di positivo o impedendo che il cane faccia delle scelte che sono contrarie al mio desiderio evitando che il cane abbia accesso a qualcosa di positivo attraverso quelle scelte. banalmente il cane tira io lo seguo gli sto insegnando a tirare e io avevo creduto fortemente diciamo all'idea biviorista di modifica comportamentale perché se noi mettiamo l'attenzione su determinati elementi dell'esperienza che viviamo con il cane utilizzando i rinforzi quindi la pallina e il cibo sostanzialmente funziona quindi quello che noi vediamo è che funziona. Io posso effettivamente controllare il comportamento di un cane controllando i rinforzi posso effettivamente cambiare il comportamento del cane attraverso l'apprendimento ma l'esperienza con i pitbull in realtà andava in una direzione completamente diversa perché se voi prendete un cane che quando entrate nel box io ricordo Jack entrate nel box il cane rimane in piedi in mezzo al box e non si muove non comunica non fa assolutamente niente voi vi state chiedendo se potete o non potete mettergli il binsaglio il vostro problema non è dargli il bocconcino o fare click il vostro problema è che in quel momento quel cane sta male e voi non sapete come aiutarlo il vostro problema è che quel cane ha in quel momento delle emozioni e che quelle emozioni influenzano il suo comportamento al di là di quello che noi possiamo offrirgli ma anche a livello di comunicazione sociale o di affetto o di interazione sociale in quel momento il cane non ha bisogno di me in quel momento il cane ha bisogno di stare meglio di sentirsi al sicuro di avere controllo sulla propria vita di sapere che cosa sta succedendo di essere in grado di prevedere che cosa succederà quindi tutta una serie di elementi con cui io non mi ero mai relazionata perché io mi relazionavo con cani di famiglia che quelle problematiche avevano altre problematiche perché sicuramente avevano altre problematiche ma sostanzialmente quel tipo di problematiche non le avevano e quindi i progetti scombattenti che è durato nove anni della mia vita ha avuto un impatto enorme e mi ha piano piano spostata mi ha allontanata mi ha veramente spostata da quello che una visione più puramente biviorista per quanto io continuassi a usare la terminologia biviorista continuassi a usare il clicker a spiegare i rinforzi condizionamento operante condizionamento classico facevo seminari dimostravo come si usava il clicker e quindi usavo quella terminologia e spiegavo esattamente quei principi e sempre in quegli anni la mia attenzione si era spostata anche su tutta quella che è la parte di etologia di comunicazione sociale perché facendo i test quando mi hanno affidato la responsabilità del progetto io ho deciso che per me la cosa importante era che non sapevo niente e non sapevo niente di quei cani e la prima cosa che volevo era avere informazioni sui cani date dai cani non da quello che io pensavo dai cani e quindi avevo deciso di fare dei test e in realtà di iniziare un progetto scientifico in collaborazione con l'università perché volevo un controllo dall'esterno di quella che era la nostra attività e allo stesso tempo volevo avere dei dati delle informazioni che avessero una validità scientifica e avevo quindi svolto dei test salvo scoprire che la mia idea che era fare i test e poi andare a vedere quali erano le differenze di comportamento dei vari cani nei vari test non poteva funzionare perché non avevo un etogramma di riferimento l'etogramma è un elenco di comportamenti e quando io faccio un test il cane sbisce di comportamenti io vado sostanzialmente a descrivere i comportamenti sbitti del cane vado a cercare nell'etogramma quali categorie corrispondono e da lì parte poi l'analisi e l'etogramma non esisteva e quindi nel 2004 io inizio a fare i test inizio a occuparmi molto di più anche della parte etologica e di comunicazione sociale nel 2005 io poi sono pessima con le date per cui prendetele quelle pinze presento in Gran Bretagna la prima conferenza sulla comunicazione sociale parlando della postura laterale perché quella in cui il cane si mette in laterale rispetto a un altro cane è una postura che è descritta in letteratura scientifica come legata all'imposizione un altro cane blocca il cane gli impedisce di muoversi e di avanzare oppure si posiziona sulla spalla dell'altro cane nella postura T e questi sono comportamenti descritti come positivi nella mia osservazione dei cani quello che ho visto è che la postura laterale in realtà era associata anche a dei comportamenti di tipo filiativo il cane che era amichevole aveva un atteggiamento positivo e avevo cercato delle informazioni sulle posture laterali senza trovarle e la cosa mi aveva assolutamente stupito avevo trovato il grande kudu che è una antilope africana che esibisce la postura laterale in realtà quando lo fanno sostanzialmente perché due maschi si stanno sfidando e mettendosi uno in parallelo all'altro fanno vedere quanto sono grossi quanto sono potenzialmente pericolose ma non esisteva nessuna descrizione sul cane quindi avevo cominciato ad inserire nell'ettogramma anche dei comportamenti che avevo osservato io chiaramente citando il fatto che li avevo osservati io l'ettogramma che io ho scritto è una raccolta di ettogrammi fatti da altre che ha all'interno dei comportamenti che io ho osservato nei comportamenti che ho osservato io è citato il mio nome proprio perché voglio evitare fraintendimenti tra quello che è una raccolta di informazioni scientifiche e quella che invece è una raccolta di osservazioni personali e quindi parlo per la prima volta della postura laterale comincio a occuparmi comincio a interessarmi ad esempio all'inchino e comincio a mettere in discussione il fatto che l'inchino sia una pastura da gioco perché osservo durante delle interazioni osservo un cucciolo che usando l'inchino sposta una femmina adulta di border collie sul perimetro del campo e io comincio a dire il gioco non è tutta la storia da sapere su questo comportamento comincio a osservarlo e comincio a raccontare che l'inchino può essere un inchino per fermare può essere un inchino per spostare può sicuramente essere un inchino per giocare e vedo ad esempio l'inchino esibito in situazioni di interazione aggressive e quindi usato anche in contesti molto molto lontani dal gioco e quindi comincio a raccontare diciamo anche queste piccole osservazioni su quello che è la comunicazione sociale del cane e tutto questo mi porta nel tempo a sicuramente staccarmi da quella che è una visione bievirista e a entrare in una dimensione che è molto più legata alla psicologia quindi la diciamo la mia ulteriore evoluzione è quella di andare a conoscere esplorare quelli che sono i processi che determinano i comportamenti quindi se vogliamo sono passata da cambiare il comportamento del cane non importa come a cambiare il comportamento del cane ma siamo positivi a non cambiamo il comportamento del cane ma lo osserviamo e cerchiamo di capirlo a qual è lo stato emotivo e la motivazione che il cane esprime fino ad arrivare a cercare di capire quelli che sono i processi che definiscono i comportamenti e l'ultima diciamo l'ultima parte della mia storia chiaramente vi ho raccontato trent'anni in dieci minuti è quella in cui io prima di tutto mi trasferisco ai laghi e cambiare spazio in cui operavo ha cambiato la mia mente gli spazi influenzano gli spazi fisici influenzano le nostre menti come gli spazi sociali influenzano le nostre menti e ad esempio ha modificare il modo con cui io vivo l'esperienza delle interazioni sociali da cani che interagiscono con altri cani in uno spazio recintato a gruppi familiari che interagiscono con altri gruppi familiari all'esterno di uno spazio recintato ma questo è solo uno dei cambiamenti l'altro elemento diciamo che io ho introdotto molto prima è stato quello delle strategie di coping nel 2007 a Pisa in una conferenza della IECI ho parlato per la prima volta di quella che io chiamavo la strategia da Malinois e cioè mettere un giocattolo in bocca a un cane per aiutarlo a gestirsi emotivamente l'interazione con altri cani o con altri stimoli e avevo studiato per quella conferenza e avevo scoperto che il termine più corretto da utilizzare era strategia di coping e quindi nel 2007 avevo cominciato a parlare di strategie di coping le strategie di coping sono probabilmente di tutte le di tutti gli elementi che ho introdotto nel mio lavoro sono quelle che sono state meno copiate meno prese e rese pubbliche magari diciamo cercando di attribuirse nel merito e io credo che siano ancora veramente poco capite rispetto a quello che è il loro potenziale e spero che rubate serenamente se la cosa aiuta a diffonderle spero che si diffondano molto di più perché sono veramente importanti e l'ultimo l'ultimo passaggio in questo percorso è stato quello di uscire totalmente dalla forma mentale del biovirismo senza passare dal cognitivismo perché per qualche motivo non ci sono mai veramente passata non ho mai veramente appassionato immaginare il cane unicamente dal punto di vista delle capacità cognitive ed entrare diciamo in una nuova dimensione in cui io non utilizzo neanche più i termini del biovirismo perché le parole portano comunque a creare e mantenere schemi mentali e quindi per me è importante per uscire dagli schemi mentali cambiare anche le parole che noi utilizziamo e quindi la scelta è stata quella di non usare più la parola rinforzo per quanto ogni tanto sia difficile non utilizzarla e non parlare più di condizionamento operante o di condizionamento classico ma utilizzare altri termini e tutto questo è successo anche grazie a Elisa Ottonetti che mi ha consigliato la lettura del libro La teoria polivagale di Stephen Porge e questo ha dato diciamo una cornice teorica al mio lavoro molto più strutturata molto più definita molto più forte per certi versi e negli ultimi tre anni io ho praticamente nuovamente rivoluzionato il mio lavoro e la dimensione in cui mi trovo adesso è sicuramente la migliore dimensione in cui io mi sia mai trovata e tutto questo nasce secondo me almeno di quella da quella che può essere tutta questa evoluzione nella mia vita nasce sostanzialmente da da quella che per me è una è una forma mentale io credo di averla serenamente ereditata non non credo che ci sia alcun merito nella nella mia difficoltà di rimanere ferma in un punto le persone spesso cercano sicurezza attraverso la conoscenza di alcuni elementi che li guidano nella percezione della della realtà mentre per me la il senso di sicurezza significa la morte cerebrale io ho bisogno di di avere dubbi ho bisogno di sentirmi insicura ho bisogno di sentirmi sbagliata di sentire che sto sbagliando e che devo fare meglio e e ho molta difficoltà diciamo a semplicemente credere quello che altri mi dicono e mi fanno fare giusto per farvi un esempio ve l'ho preso perché è un pezzo della mia vita ok saluta adesso qua c'è anche kanji che lo sta guardando con uno sguardo assassino ma lui è babao nero me l'hanno regalato che avevo credo non so due tre anni e si chiama babao nero ero in un momento della mia vita in cui avevo perfettamente idea di che cosa fosse il bianco e cosa fosse il nero ma lui si chiama babao nero e hanno provato in ogni modo spiegarmi che era bianco e in ogni modo io gli ho spiegato che per me non era rilevante che fosse bianco e io non credo che fosse una sfida verso l'autorità la mia io credo che fosse un modo perché fosse una sfida contro me stessa e cioè creare una condizione di dissociazione cognitiva in cui una cosa che è bianca si chiama nera mette la mia mente in uno stato di caos e il caos è l'elemento che porta alla creazione è l'elemento che porta al cambiamento l'elemento che porta a introdurre la novità a cambiare la propria strada e credo che quello che mi ha salvato in cinofilia e in generale nella mia vita sia stato proprio questa continua ricerca questo desiderio di non fermarsi mai diciamo di non adagiarsi mai su una illusione di conoscenza e quindi dopo questo breve racconto di quelli che sono stati alcuni dei momenti importanti della mia vita cinofila vi lascio con un pensiero che è quello di non credere mai a quello che vi viene detto ma di mantenere sempre una mente aperta e di informarvi di cercare nuove spiegazioni nuove strade nuove conoscenze e di non lasciare mai che qualcun altro vi dica cosa dovete credere che cosa dovete vedere che cosa dovete fare bene buona giornata a tutti è il tempo che io vada a fare un po' di festeggiamenti con i miei canni che si stanno mortalmente annoiando mentre io parlo spero non aver annoiato anche voi e buona giornata a tutti grazie